Con Luigi Panarelli, l'allenatore del team Altamura, una partita in casa di una squadra che ha sempre vinto, ha pareggiato solo una volta al Monterisi, una partita difficile, eppure l'Altamura, nonostante la stanchezza comunque di aver disputato tante partite nell'ultimo periodo, è riuscito a tenere corda alla capolista e rischiamo di portare via un punto importante qui dal Monterisi. Più che un punto secondo me potevamo anche vincere perché abbiamo avuto parecchie occasioni da gol, un minuto prima con Fernandez potevamo andare a far gol, poi sul calcio d'angolo successivo all'ultimo minuto c'è stata un'incertezza nostra, li ha sbattuto quasi sulla pancia, sulle gambe, il difensore non si è neanche accorto e ha fatto gol. Si può dire che l'ingresso in campo di Fernandez ha aumentato il vostro peso specifico davanti? Ha avuto qualche difficoltà in più Bottone nel periodo in cui è stato in campo? Poi con Fernandez è diventato più pericoloso all'Altamura? No vabbè io sono contentissimo della partita che ha fatto Bottone perché abbiamo avuto anche occasioni nel primo tempo, è chiaro hanno due caratteristiche diverse, magari Fernandez è più fisico, Bottone magari è più tecnico, protegge palla e abbiamo avuto delle trame offensive molto positive anche nel primo tempo. Ripeto, venire qui a Cerignola e dettare legge su un campo di questo secondo me non è da tutti, anzi lasciatemi passare il termine, non è proprio da nessuno. Ora continuano le sfide per l'Altamura e continuo a susseguirsi di partire perché ora c'è da affrontare il ritorno col Troina di Coppa Italia, una zero all'andata per i siciliani però assolutamente è possibile il passaggio del turno? Sicuramente anche perché la partita di andata è stata una partita che ci ha condannato anche un episodio di una nostra distrazione, però adesso dobbiamo ricaricare subito le pile e dobbiamo recuperare soprattutto le energie fisiche perché come hai detto tu abbiamo fatto quattro partite in due settimane e adesso ci apprestiamo a fare la quinta partita di mercoledì. Quindi dobbiamo recuperare l'energia, purtroppo ci mancano due giocatori importanti mercoledì, però chi li si sottolinea farà la loro parte come hanno sempre fatto. Ci sono domande da studio? Sì, c'è il mister Cianimarico che vuole fare una domanda al mister Panarelli. A te mister. Buonasera mister, come va? Ti è a posto? Sei arrabbiato? Buonasera mister. Volevi entrare in campo ho visto, ho visto che eri là pronto per entrare. Senti, purtroppo la partita era da 0-0. Sono deluso per i ragazzi perché hanno fatto una grandissima prestazione sotto tutti i punti di vista, tecnici, tattici, hanno corso moltissimo, si sono sacrificati e dispiace soprattutto aver raccolto pochissimo dopo una prestazione eccelsa di questa maniera. Sì, no, la partita l'abbiamo vista e quindi diciamo che un pari avrebbe rispecchiato, secondo il mio punto di vista, sarebbe stato più giusto un pari perché magari neanche il Cerignola meritava di perdere. Sarebbe stato più giusto, però il fatto di giocare su due fronti sai benissimo che ti crea qualche problema dal punto di vista anche fisico. Quindi recuperare le forze. Mercoledì c'è il ritorno col Troina, no? Sì, sicuramente è dispendioso giocare domenica e mercoledì, anche perché poi le vai a affrontare con degli infortuni, le vai a affrontare con delle squalifiche perché in Coppa Italia noi abbiamo ogni giorno inizioni ci sono delle squalifiche. Ma del cuore che fine ha fatto? Quando sono arrivato io già non c'era. Ma è andato via? Non so cosa è successo. Ah, è andato via? No, pensavo fosse infortunato. Non c'è, non c'è con noi. Da quando sono arrivato io io già non l'ho trovato. Sì, lo so, lo so perché io vi seguo moltissimo, un po' perché facciamo la trasmissione e dobbiamo essere anche un po' preparati, se no il direttore qui mi caccia via, un po' perché ho visto del cuore, sai, è già un tipo un po' per fatti suoi insomma che ogni tanto fa delle cavolate, però non l'ho visto più in squadra, sai, del cuore per voi era un giocatore abbastanza importante. E poi ho visto che Di Senso è infortunato e squalificato, perché secondo me come giochi tu Di Senso è un giocatore molto importante. No, era squalificato Di Senso. Ah, era squalificato. C'è mancato una pedina molto importante, Di Senso è squalificato. Sono convinto che come giochi tu Di Senso è un giocatore molto importante. Mercoledì ce l'avrai, speriamo di superare. Oggi, tra anni. Cerca di superare sto turno, va, perché il campionato ormai è andato, lo sai benissimo. Quindi cerca un po' di far recuperare i giocatori per questa partita. Verrò anche a fare il tifo per te, dai, così magari vediamo l'Altamura vincere questa Coppa Italia. Speriamo che ci porti bene, mister, anche perché noi ce la metteremo tutta, perché è una partita fondamentalissima per tutta l'annata. Perché ci proietta in quello che potrebbe essere magari una semifinale che ci può consentire quell'obiettivo che noi speriamo. Buon lavoro. Recuperare le forze, recuperare le forze e soprattutto di energie è fondamentale. Speriamo di fare una grande gara. Lo speriamo di vincere. Faremo di tutto perché l'obiettivo del passaggio del turno c'è nelle nostre corde. Perché siamo una squadra, secondo me, tra una delle più forti del campionato. Grazie, mister Panarelli. Grazie a te, Francesco. E un bocca al lupo per il prossimo impegno. Grazie, allora mister, speriamo facciamo il tivo per l'Altamura perché affronterà questa ulteriore sfida.